Un percorso che è partito all'inizio dell'anno scolastico e che ha coinvolto, oltre che gli alunni e anche i docenti che si sono impegnati nella formazione e gli alunni più grandi nell'alternanza scuola-lavoro. Tutta una serie di strumentazioni che sono ormai oggi strumenti fondamentali, dispensabili per la didattica e che hanno dimostrato ancora una volta come i più giovani, quindi anche i bambini delle scuole primarie, che siano in grado di acquisire questa consapevolezza grazie a un percorso guidato da persone esperte. Ringraziamo Estra per averci dato questa possibilità straordinaria di entrare nelle classi e portare un messaggio che per noi è importantissimo, quello della sostenibilità a partire dal valore delle fonti rinnovabili. I ragazzi fanno un lavoro straordinario perché sono i primi a crederci, i primi che una volta che hanno studiato e fatto il percorso didattico assumono quelle cose che hanno studiato a scuola come veramente dei principi fondanti e poi la valore aggiunto straordinario è anche quello che poi tornano a casa e diventano i promotori degli stessi valori che hanno scoperto a scuola con le loro famiglie. Abbiamo un debito ambientale da risolvere e da risolvere mettendo al centro l'uomo, quindi l'ecologia e l'economia viaggiano insieme, studio della casa e gestione della casa per una soluzione umanizzata. Questo progetto ha imparato che dalle cose piccole si possono fare delle cose grandi e risparmiare è sempre una bella cosa. Abbiamo imparato che l'energia risparmiata serve per migliorare la nostra città dove viviamo. È importante risparmiare energia per non inquinare. E' divertente!